è un momento magico, godetevelo, è un momento magico di questi ragazzi che ormai adesso non sono più ragazzi sono arrivato lì, c'erano le auto blu, ho detto chi sono questi? Sono i nostri, stai zitto, sono i nostri ma noi siamo al governo, siamo al governo e vanno d'accordo, vanno d'accordo con Salvini ma non c'è niente di strano, perché io non l'ho mai conosciuto, l'ho conosciuto una volta sola Salvini prima che diventasse quello che è diventato e all'aeroporto sono arrivato, lui era molto timido io arrivavo, ero già elevato io, non ridete, non ridete, io sono elevato, voi siete massa voi riuscite a malapena a vivere, io esisto, è diverso e Salvini percepiva questa potenza che emanava il mio fisico sul suo, come raggia superiore alla sua, ma non è, guarda io ammiro quella personale invece, ve lo dico sinceramente, ammiro perlomeno è leale, l'etica della politica è la lealtà, è quello che mi dicono una persona che dice una cosa e la mantiene, che è un miracolo oggi nella politica. Allora Grillo 2018, buongiorno a Vincenzo Spadafora, già ministro, appena ministro dello sport e esponente di spicco naturalmente del Movimento 5 Stelle, quanto tempo è passato da quel grillo movimento in continua evoluzione, ieri Trizzino per la prima volta esponente del Movimento 5 Stelle ha detto questo accade quando un movimento si trasforma in partito, devo dire che è la prima volta che ho sentito la parola partito da esponenti del Movimento 5 Stelle. Credo che dovremo abituarci in questi giorni a sentir cambiare molto spesso, a sentir parole diciamo che prima in qualche modo volevamo rinnegare, il che non vuol dire poi rinnegare un modo di fare politica che invece deve essere quello che deve caratterizzare il Movimento, però che sia cambiato è fuori discussione, del resto il 2018 ha portato il Movimento ad avere il 33% più come forza di opposizione contro tutti gli altri partiti che non come forza diciamo di governo. Oggi il vero tema è tra due anni, nel 2023, perché gli elettori dovrebbero ancora votare il Movimento 5 Stelle e quindi cosa caratterizzerà questa volta la richiesta di voto che faremo, di consenso del Movimento 5 Stelle e quindi è ovvio che dovranno cambiare tante cose e mi sembra che il percorso di questi giorni anche con il richiamo a più voci del Presidente Conte vada assolutamente verso questa direzione. Lei ha detto una cosa interessante nel senso che ha detto cosa doverà caratterizzare questa volta, cosa chiederemo questa volta agli elettori, in questo questa volta però ci sta anche la contraddizione, voi eravate quelli del no all'alleanza, mai con quelli di Bibiano piuttosto che con quelli di Salvini, la Lega, avete fatto il governo con la Lega, avete fatto il governo con il PD, adesso c'è il governo Draghi, manca d'identità, questa volta cosa chiediamo, manca d'identità? Sì, più che manca d'identità, allora intanto i temi che erano i temi delle battaglie di Grillo che abbiamo visto, sono temi superati, il reddito di cittadinanza, i temi sulla corruzione, superati nel senso che li abbiamo portati a casa e quindi quelle comunque sono delle battaglie vinte e poi diciamo l'operazione del Movimento 5 Stelle immaginata da Grillo e Casaleggio è stata, poi si può essere come dire sostenitori o meno, ma è stata comunque una delle operazioni politiche dell'ultimo decennio più interessanti nel panorama politico italiano, adesso però dovremmo anche un po' imparare dagli errori, gli errori secondo me sono stati soprattutto quelli di non aver avuto nel momento giusto la consapevolezza di dire beh immaginavamo una storia diversa, stando al governo invece le cose vanno fatte in modo diverso, vanno fatte le alleanze, è necessario raggiungere dei compromessi, è necessario darsi un'organizzazione, è necessario radicarsi sui territori, abbiamo sempre pensato che potesse essere un movimento liquido, quindi adesso non mi spaventa se qualcuno parla di partito, il problema è che noi abbiamo sempre dato in Italia un'accezione molto negativa al nome partito perché veniamo da una storia recente degli ultimi decenni dove a partito, a politica abbiamo sempre associato come dire una fase molto buia nel nostro paese, però essere un partito ma fare le cose fatte bene non mi sembra che questo sia un problema, oggi l'identità va costruita, Conte può essere di grande aiuto che non sia solo un'operazione di comunicazione però, cioè nel senso che Conte secondo me non deve, ma lo dico nell'interesse del Presidente Conte che rispetto moltissimo, arrivare solo per magari coprire le nostre contraddizioni, coprire i nostri problemi. Tra l'altro non mi sembra la persona che si fa trascinare in questo modo. Credo che in realtà al di là di quello che si legge sui giornali di poter dire che lui stia ancora valutando molto attentamente, cioè è ovvio che il percorso ormai è avviato però il come, il quando, in che modo, con quali diciamo ruoli e soprattutto con quali garanzie, non solo di autonomia come si legge sui giornali, ma io credo che il Presidente Conte stia valutando anche insieme magari a una squadra, ai suoi consiglieri, anche tutte le cose prettamente organizzative del Movimento, cioè il simbolo, l'associazione, il rapporto con Rousseau, cioè tutto quello che fino ad oggi è stata, insomma, l'organizzazione del Movimento 5 Stelle e che però ha dimostrato anche di avere delle lacune oggettive che oggi non possono essere non prese in considerazione.